Il 46enne tunisino arrestato dai poliziotti della squadra mobile dello SCO a seguito di un'ordinanza firmata dal GIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della procura è stato ritenuto responsabile di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha procurato l'ingresso sul territorio nazionale attraverso la frontiera di Lampedusa di 44 migranti di varie nazionalità. Lo sbarco su cui hanno indagato i militari del settore navale della Guardia di Finanza e quelli della Guardia Costiera di Lampedusa si è verificato martedì scorso. Il tunisino è stato trasferito in elicottero dalle fiamme gialle ad Agrigento dove è stato portato al carcere Pasquale di Lorenzo. Intanto riprendono gli sbarchi a Lampedusa, fermi da venerdì scorso, 98 migranti sbarcati fra la notte e l'alba, 50 originari di Gambia, Senegal, Guinea e Mali rintracciati a Cala Madonna dai carabinieri. Altri 48, ivoriani, malesi, guineiani, senegalesi e gambiani sono stati invece soccorsi mentre erano su un barchino a largo della maggiore delle isole Pelagie dalla motovedetta della Guardia di Finanza. I due gruppi sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola dove al momento ci sono 103 ospiti. Altri 47 migranti sono stati soccorsi dalla motovedetta CP306 della Guardia Costiera nelle acque antistanti a Lampedusa. Il gruppo, composto da persone originarie di Camerun, Gambia, Senegal, Costa d'Avorio, Guinea e Mali e partito da Sfax in Tunisia, salgono a tre nel giro di poche ore i approdi con un totale di 145 persone. Grazie. 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 Grazie.